rischia l'espulsione dal partito Dario Caloggi, esponente di Fratelli d'Italia. Caloggi, in una conversazione su Facebook, sul profilo di Roberto Spada, il pugile in carcere per aver aggredito con un'attestata un giornalista di Nemo, scrive così ottobre è vicino le elezioni dell'X municipio, NDR, riprendiamoci ostia. Dal partito di cui è la leader Giorgia Meloni corrono ai ripari e fanno sapere che Caloggi è stato deferito alla commissione di disciplina di FD. Ma andiamo con ordine. È il 6 giugno e Spada allega una foto di una spiaggia vuota lamentandosi per l'assenza di bagnanti tristezza infinita. Armare zero bagnanti. Gli altri anni di questo periodo, si era fortunati a trovare uno spazzetto. Dario Cologgi, in corsa nella lista FD per picca presidente, a supporto della candidata del centrodestra a presidente dell'X municipio, replicava così in romanesco cancelletto onestata a Ciloro. La conversazione via social network prosegue e Spada, arrestato giovedì per l'aggressione ad un giornalista, gli risponde onestà a spiaggia sporca. E te pigliano per culo con video e operazioni finte. A questo punto, Cologgi replica se pigliano per culo da soli. Ottobre è vicino. Riprendiamoci Ostia. E quanto vorrei che fosse comune a sé. La breve conversazione prendeva il via da un post di Roberto Spada che aveva scritto grazie per la morte di Ostia referendosi ironicamente all'amministrazione Raggi. Dario Cologgi, un nostro candidato che in nessun caso diventerà consigliere municipale, è stato deferito alla commissione di disciplina di FD con richiesta di espulsione appena alcuni nostri elettori ci hanno segnalato uno scambio di battute sui social con Roberto Spada, ha spiegato all'Ansa Massimo Milani commissario romano di FD.